Genesi di un'opera partecipata all'Accademia di Belle Arti sono stati presentati materiali e progetti da cui è scaturita l'opera monumentale La Rinascita, realizzata dalla Cattedra di Decorazione dell'Accademia per la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza Italiana. È stata un'occasione veramente importante, noi ancora oggi diciamo grazie al corpo della Guardia di Finanza, al generale di divisione Failla che è il comandante della scuola sotto ufficiali dell'Aquila e naturalmente all'impresa Ziaca dell'architetto Iannini che ci ha consentito di realizzare fattualmente quello che è stato il progetto, il disegno e la sperimentazione anche che è stata messa in atto con questa iniziativa della Rinascita. In Accademia E sarà possibile farlo anche in occasione della ventesima giornata del Contemporaneo e promossa da Amaci sabato 12 ottobre e vedere in mostra e bozzetti originali gli studi su carta, oltre ad elementi di lavorazione in acciaio corta sono realizzati presso l'azienda Ziaca che ha lavorato con emozione, spiega l'architetto Iannini, sapendo il significato dell'opera. Noi siamo sempre stati vicino alle necessità ma anche alle rappresentazioni che rappresentano le necessità. Abbiamo portato nell'opera un'emozione aziendale, cioè dentro l'opera c'è l'emozione di tutti quelli che hanno collaborato, siamo contenti per come è venuto fuori, per come è uscita, siamo contenti per quello che sta rappresentando e che dovrà rappresentare nel tempo. Grazie 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 Grazie